ciao a tutti oggi sono venuto insieme a davide a cenizello bassamo per esplorare quella che era la rotocalcografia italiana che è abbandonata dal 2012 e adesso lo esploriamo assieme ma prima vi dico già di ringraziare lui per questa esplorazione perché io non sapevo neanche che esistesse questo posto quindi dite grazie a davide oh yeah la sede di questa azienda tipografica si trova a cinizello balsamo in provincia di milano e venne edificata nel 1957 per ospitare la rotocalca ambrosiana lo stabilimento fu acquisito dalla rusconi nei primi anni 70 mamma mia come tutto marcio qua giriamo di qua comunque lo stabilimento fu accendo una luce si si vede un po meglio fu acquisito dalla rusconi nei primi anni 70 e il nome venne modificato in rotocalcografia italiana che si occupava appunto di stampare tutte le produzioni della rusconi dalle riviste che stampava all'inizio fino alla fine che hanno idrite carbonica fino alla fine che producevano stampavano anche libri nel 2001 la proprietà passò alla fratelli pozzoni che era una delle principali aziende da stampa italiane qui vediamo un po di macchinari wow qui non so cosa fosse però questa questo era proprio un rotocalco qui stampavano proprio qui ci mettevano i rulli ci mettevano i rulli lì ci sono ancora dei rulli vediamo magari di qua si vede l'altra parte qui c'è il pannello di controllo un altro pannello di controllo e qui il pannellone qui si vedono simboli forbici raschiatura sì sì era cinghi avanti indietro sì 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 questa era proprio macchina da stampa per rotocalco che tagliava anche già in misura tutti i fogli e di qua ce n'è un'altra comunque dopo essere stata acquistata nel 2001 dalla pozzoni nel 2008 nel novembre del 2008 nonostante l'incombente crisi finanziaria che stava arrivando a livello mondiale la pozzoni acquisì l'ottanta per cento della mondadori printing che era una società che faceva parte del gruppo arnoldo mondadori con questa operazione il gruppo pozzoni diventò il più grande in italia e il terzo in tutta europa proprio la prima azienda grafica in italia e la terza in tutta europa e aveva più di 2000 dipendenti nel 2012 qui erano tutte cabine elettriche tutto distrutto portato via stanno ladrando tutto qui c'è ancora questa non hanno ancora fatto in tempo a smontarla c'è il cablaggio c'è ancora tutto comunque nel 2012 la pozzoni ha comprato il restante 20 per cento della mondadori appunto è diventata in questo modo la più grande azienda grafica al mondo e al mondo in italia e la terza in europa però è questa e questa però ha riorganizzato tutta la catena produttiva un'altra rotocalcone ma questa è ancora più grossa ha modificato tutta la produzione spostando tutti i macchinari i macchinari come vedete qui ci sono ancora però tutta la produzione da qua è stata spostata a in provincia di bergamo a cisano dove c'era la sede principale della pozzoni e qui hanno chiuso tutto lasciando a casa i circa i circa duecenti operai questi erano per sollevare cose erano in pratica dei muletti ma appesi al soffitto invece che andare terra dei carri di ponte tecnologici wow e di qua e di qua altri macchinari questo è gigante questa è proprio grossa grossa quanta roba qui in mezzo c'è il rullone principale e di qua altre cabine elettriche niente no sì sì questi erano tutti i rotocalchi questi ma perché non vedi tutti dell'inchiostro perché non vorrei che magari questo serve per tagliare e sopra stampano perché non vedo non lo so in effetti perché vedo che c'è un buco vedi da là ah ok allora sì ecco la varia inchiostra da sopra quello là è il serbatoio dell'inchiostro o l'inchiostro o il foglio stampato arrivava da sopra sì uno dei due non so vediamo e il giro qua ormai non si riesce più a capire poi ci sono foto di stampe che facevano signorine in vestiti di finti che è meglio che non inquadri per non farle vedere su youtube abbiamo già fatto tutto il giro qua sì e allora faccio qualche foto qua dentro faccio qualche foto e poi continuiamo il giro oh yeah uscendo da quel capannone ritorniamo di qua dove c'era attrezzatura antincendio tutto rubato ma notare a terra lo scimpio perché qui stanno sfasciando tutto di qua di qua cos'è qui c'erano altri macchinari ma rullo trasportatore confezionamento ah qui c'è qualcosa stiamo a stare attenti no non si muovono è tutto rugginoso no proprio non si muovono questi rulli tutti bloccati comunque si è una macchinari con cui tutta la linea il trasporto che portava e faceva fare tutto il giro e qui sì probabilmente era in ballaggio davanti al capannone quello che abbiamo appena visto e allora andiamo comunque dal 2012 il posto qui è rimasto totalmente abbandonato come si può vedere e qui c'era il nastro che portava giù sì lì dopo arrivavano sulle risme arrivavano di qua mettevano il bancale il bancale in scatola carinzia mai vista mai assaggiata sta birra mi manca e allora continuiamo il giro questi sono i nastri per invaldare i bancari dovrebbero essere i fascetti quelle per stringere i bancari sì 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 qui altre cabine elettriche sfasciate sì qui proprio sono dati da fare ma niente di interessante qua proprio lo sfasci basta quindi qua interessante qua sopra qua sopra le riviste erano utilizzate poi andavamo di là dove vedi ah è vero che c'è tutto il nastro il nastro continuo il nastro continuo che portava e beh basta seguire e dici sono scale che portano di sopra dove c'è la produzione ma sì anche perché qui sotto non è rimasto più niente è proprio il vuoto è rimasto tutta la sì sì tutta la linea qui che faceva tutto il giro sì si vedono anche le guide da seguire praticamente pensavano la rivista tac e la portavano pensate e guarda qua il serpentone a catena qui qualcuno si è messo anche un divano ma qui si sale comunque dal 2012 da quando è stato abbandonato questo posto come vedete proprio stato d'abbandono è stato occupato anche un paio di volte con successivi sgomberi fatti dalle forze dell'ordine e adesso è il regno dei ladri di rane capannonazzo grosso e anche qui vedi c'erano quelli che infatti fanno tutto il giro e vanno scendono di sotto sì quindi anche qui sarà stato tutto pieno di macchinari i resti di un monitor di un computer sfasciatissimo e qui sopra c'era qualcosa si erano tutti i macchinari ma dove passava tutto il giro però vanno a capire là dietro invece vedo che c'è qualcosa di grosso qui piove dentro quindi vuol dire che il tetto ha delle brutte perdite capannonazzi giganti con tutto che siamo al piano di sopra va come lungole in fondo ce n'è qua di roba allora di qui c'è una porticina che permette di entrare qua dell'intro 6, 6, 5, 5 cos'era questo? non saprei questo qui è un portacilindri per la stampa per i vari poloni dici? sì, sì però non ci sono eh no i cilindri no i radri perché di solito contengono dei materiali preziosi e qui invece vanno a capire l'ario ma vanno a capire cosa è sta roba penso che sia un lavaggio pulizia cilindro no peso cilindro portata massima sì è possibile che fosse un lavaggio io non lo so non lo so qui c'è la scala magari se guardai sì sì se deve essere un lavaggio vedere che ci sono degli uccelli tipo lavaggio si facevano un lavaggio un insolvente qualcosa del genere sì possibile possibile e continuiamo di qua mira ma che grosso e vanno avanti ancora di qua i capannoni e questo portatori automatici che giravano per i fatti loro dici sì sì questi erano automatici c'era proprio il computer che lei comandava e loro andavano a portare i fatti in giro e loro andavano guardia come è di qua e questo possibile altra roba da stampa bisognavano altri cilindri è un sollevatore qui c'è tutto il carro ponte che li solleva li sposta da uno all'altro ma che questi erano bagni d'inchiostro no perché non è la serigrafia quindi non funziona come la serigrafia no cioè loro mettevano intorno al cilindro un qualcosa che poi dopo stampava quindi può darsi che questi servono per pulire i cilindri per renderli reagenti e poi mettere su un altro diciamo sì è possibile solo che non saprei ecco qui si vede meglio come è fatta all'interno vedi gira sì sì vedi c'è l'ingranaggio che lo fa girare o per l'applicazione del negativo per poter poi è vero forse questi è che sai cosa io l'avevo studiata anche a scuola queste cose che ci ho anche lavorato però era più in campo serigrafico e i macchinari non erano proprio fatti così erano un pochino diversi che vedi qui c'è tutto un discorso di di acqua e lavaggi di sotto lavaggi o magari soluzioni per incidere può darsi che qui li preparavano la preparazione del cilindro che poi chiaramente ogni cilindro era preparato per il colore che doveva essere messo quindi il numero era diverso ma quanti di sti i cosi tutti i cavi che sono stati tagliati avanti ponte salita discesa stringi pinze allarga pinze apre paracadute chiude paracadute paracadute questa è tutta sfasciata comunque sono tanti macchinari così per il primo turno ogni mattina si prega di sistemare il rame nel bagno dandogli anche una leggera lavata sì sì bagno rame sì 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 erano proprio per il lavaggio per il lavaggio dei cilindri pannellone di controllo e poi lì c'era il magazzino penso automatico dove tutti i cilindri venivano posizionati oh sì tutti i cilindri venivano posizionati e c'era la cremagliera esatto che riportava da su a giù il sistema ma lo sai che questo sistema qua è più o meno lo stesso sistema che c'è da fine degli anni 90 negli archivi della RAI di Milano e il sistema l'aveva studiato mio padre e la digitalizzazione l'informatizzazione di tutti i file l'avevamo fatta io e altri ragazzi e io quella volta ero proprio il direttore responsabile quindi tutte le cose digitalizzate i formati vecchi che sono stati fatti in digitale alla RAI chi rivede può ringraziare me e quegli altri sfigati perché eravamo lì a lavorare per una ditta esterna in nero però il lavoro l'abbiamo fatto lo stesso e a quanto pare anche bene qui sono tutti i macchinari quelli per il lavaggio dei rulli cavolo ne avevano da lavare anche perché in effetti lavoravano di brutto qua e questi invece sono diversi questo è un porta rulli come quello che c'era di là uguale uguale e questi cosi pericolo vietato passare o sostare sotto i carichi sospesi secondo me questo era per creare allora quelli erano solamente la preparazione del cilindro e con questi qui facevano le incisioni c'è il cilindro vediamo la testa questi erano quelli incisi perché tante volte le incisioni venivano fatte a foto incisione o a liquido a bagno in pratica sopra la lastra con sopra lo strato di nitrato d'argento e altri reagenti gli si metteva sopra questo qui secondo me è un sistema vecchio si 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 è l'inferno comunque gli si metteva sopra a tutti i pannelli alle lastre gli si mettevano le scritte quello che c'era da stampare e poi a bagno a bagno così nell'olio nell'olio nei reagenti dove c'era il dove c'era il disegno questo veniva via e lasciava anzi veniva via tutto il resto dove c'era il disegno restava il disegno assorbente in modo che assorbisse l'inchiostro e di lì altri supporti altri supporti altre macchine per lavaggio dall'altra parte del vetro comunque è un sistema di stampa che viene usato anche adesso qui tutti i mandrini fatti apposta per stringere il cilindro sì 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 questa era proprio l'incisione l'incisione elettrica questa è la roba roba elettromagnetica dai faccio qualche foto qua dentro e procediamo uscendo da lì siamo ritornati nel capannonazzo da dove siamo venuti qui era riparto imballaggi e stoccaggio immagazzinamento infatti arrivavano da di là li mandavano di qua di qua c'era l'imballaggio probabilmente magari qui c'era qualche ingresso per i camion ma no qui secondo me c'è per lavorazione però queste macchine qua le hanno recuperate vedi che erano nuove vedi che sì 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 di qui hanno svuotato però vedo che là c'è uno stanzino con dentro qualcosa sembra un laboratorio sembra un laboratorio in cui c'è un ufficio due uffici questi erano uffici ma di qua e di qua sì un laboratorio con attrezzature esoteriche sconosciute vediamo di là di là di là e anche qui hanno sfasciato tutto un microscopio con l'acqua ha fatto la sua parte ma qui c'è proprio di roba sintetica chimica no secondo me è proprio di chiuso come buio con tutto tutto che è la stanza più chiara più luminosa cioè buio dai faccio qualche foto anche qua e siamo di nuovo nel capannone da dove siamo venuti sopra da quella scala lì in fondo e si continua verso di qua comunque questa fabbrica lavorando su stampi inchiostri quando era attiva era piena di materiali inquinanti ma molto inquinanti tipo anidride cronica toluene inchiostri a base di toluene acido cloridrico acido solforico più altre cose tipo coprol 503 derivati dell'acido fosfonico alcani altre schifezze insomma faceva era molto inquinante gli studi dicevano che non c'era pericolo qui che serie di macchinari è questa ecco questa qui è proprio la stampa la stampa eh sì con tutti i rulli pensa che nastroni di carta che c'erano qua e qui si sale anche sopra e io non posso non salire naturalmente scale ripidissime perché per rendere comodo il lavoro agli operai oh che linea lunghissima ecco scorrevano tutti i rulli con la carta che girava dentro tutte in serie dalla prima all'ultima e là si sarà ancora attenzione oh e qui si sale si vedono i rulli dall'alto tutti i macchinari ah no non si vede niente perché è chiuso però da qua sì mica tanto perché è una serie talmente lunga lunga cavolo quanta roba qui sai perché non hanno portato via perché era troppo sbattimento portare via tutta sta roba e gli è convenuto rifare a nuovo tutto nel nuovo stabilimento che poi è il nuovo in realtà era quello originale della della ditta che ha comprato qua dai faccio qualche foto anche qua sopra che qui merita sì 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 e siamo di nuovo qua in alto sopra al capannone vediamo dove porta il corridoio qui si fa tutta la linea bella lunga di qui c'è una discesa ma di qua c'è una salita e si sale anche perché qui la linea un pezzo di linea sembra interrompersi sì finisce qua finisce qua e anche di qua si sale e io salgo ci sono pezzi che si muovono un po' a caso no no torno giù perché qui ballonzola tutto e questo è il retro delle macchine di qui dell'ultima macchina sì sì no torno giù perché qui è rischioso e dall'altra parte l'altra scala fa salire sempre sopra di qua quindi no evito evito e direi di scendere di sotto perché lì sopra è tutto barcolloso dov'è la scala che scende eccola qua verticalissima io non capirò mai perché le facevano così verticale va bene risparmiare spazio ma cavolo e di qua si entra di nuovo nel capannone di cui c'è altri macchinari altra linea di produzione con dentro stessa cosa stessa cosa che c'era di là però queste sembrano macchinari tutti più nuovi quali là erano vecchi questi sono tutti più nuovi qui della cia rutti proprio saranno i 90 queste nuove fiammanti qui super pannellone di controllo tutta la serie con il suo colore di giallo si 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 proprio a colori dai qualche foto anche di qua e via certo che è immenso sto posto proprio immenso e ci sono quattro linee di produzione uscendo da qua di fronte dall'altra parte lì quella è la linea che abbiamo appena visto e di cui ce ne sono altre due si sono quattro 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 linee di produzione si vede che stampavano magari quattro giornali contemporaneamente diversi perché una linea per è anche qui stessa cosa uguale all'altra questo è proprio uguale con gli stessi macchinari uguale uguale e in mezzo ci sono tutti questi portarulli che beh non so non so cosa ci facessero cioè si ci facevano ci trasportavano i rulli con si vedono gli spazi per uno e due rulli alla volta si perché secondo me di qua stampavano due riviste perché erano due colori due blu due gialli e facevano adesso ho notato questa cosa qua si si quindi praticamente è moltiplicato per quel numero di macchine due giornali per produzione quindi quattro linee otto giornali alla volta alla volta e di qui c'è altra linea con altri macchinari nuovi anche loro e qui si vedono bene i colori dove stampavano il rosso qui giallo giallo arancione sto colore qua più avanti sembra verde ah no è dietro della macchina ho anche questo colore così comunque ecco questi sono tutti coloranti che non dovrebbero essere qui va bene che non sono dispersi nel terreno perché sono qui addirittura piano di sopra però è cristallizzato sì 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 è cristallizzato e di cui c'erano niente la parte di qua dei macchinari e lì in fondo cos'è quel cosone rotondo grosso bidone pieno di oli esausti schifezze lubrificanti in grasso questa questa è un altro cosa diverso da tutti gli altri cosa mai sarà vediamo giriamo attorno una macchina non so da quei disegni lì mi sembra una cosa per l'impaginazione qualcosa del genere la misura è quella diva e donna stampavano anche questo tanti controlli si questo mi sa che era impaginazione taglio e del cui venivano sbattuti fuori sul carrello sì 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 questo era il pezzo di impaginazione poi qui andava a destra a sinistra e poi quei rubli li portava sì quindi avevi proprio ragione per ogni linea due due produzioni due produzioni e qui i computeroni la sala di controllo la sala di controllo dell'interprise e di là ce ne sono altri un altro pannellone di controllo che però è stato molto smontato e di qua e di qua c'è gente e di lì c'è gente e di qui c'è i resti di uffici qui magari c'era il timbro cartellini del reparto niente è finito qua l'ufficio allora qualche foto qua dentro e poi si continua oh yeah e si sale ai piani superiori perché i capannoni sono finiti e più o meno da dove siamo entrati c'è questa scala che porta di sopra e si entra di qua piano secondo quelli sono i capannoni no sono altri capannoni quelli questi qui sono l'area uffici uffici mensa e di qui si entra e si qui erano proprio uffici uffici con il cesso uffici così archivi documenti no scheda di trasporto 2001 una agenda così e basta si beh non stiamo niente a vedere perché di solito su queste cose ci sono nomi e è meglio non metterli in mostra e allora si viene di qua qui dei pannelli di controllo tutti scassati di cui c'è questa scaletta che porta sul tetto ma tanto poi si fa il giro si fa il giro da di dentro la legge era così si si infatti senza fare troppi sbattimenti wow qui mancano proprio pezzi di pavimento e qui erano tutti uffici qui si vedono cose che stampavano qua 01 computer world chissà perché mi vengono in mente i craftwork prima settimana di informatica computer world linea edp resti di macchinari signor cose d'ufficio e allora di qua vedo che c'è un archivione ma per entrare non si passa di qua ma si passerà da qualche altra parte qui un mega archivio ecco ma siccome qui sono tutti i documenti agente stampavano sono mensili dal numero 8 al numero 12 magari si entra da un'altra parte più comoda si infatti ecco lì la parte più comoda ma prima di qua vabbè tutti uffici uffici documenti documenti che ormai è un peccato pensa quanta storia c'è qua dentro storia della stampa pubblicazioni che sono state fatte che quante chissà quanta gente le ha dette guarda qui questa qui è da riprendere una roba guarda cos'è sta cosa questa è una cosa mamma mia spaventoso spaventoso dai è anche quello cos'è sta roba sì 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 guarda anche in alto lì dei funghi sul mondo che cose wow vabbè intanto vado a vedere l'archivio che magari anche là visto che è tutta roba così magari anche lì è pieno qui ci sono tutti i documenti sbattuti in giro qui altro ufficio ma di qua c'è il mega archivio in effetti qui sta marcendo tutto archivi ufficio logistica sì 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 qui sta marcendo proprio tutto è un peccato chissà cavolo questi sono proprio i numeri i numeri dei giornali mensili 99 sì adesso non sto aprire no fai tu perché sì poi lo li mettiamo a posto no questi qui dovrebbero essere proprio i giornali che erano stati stampati ah no sono bolle no si sono tutte le bolle dei vari giornali cavolo ma quanti qui ecco un po' di giornali quark gioia gli allegati di gioia gente gente mese gioia iva gioia gioia eva express riviste varie eh ne facevano anche quark più tutti quegli altri computer che abbiamo visto prima e allora vabbè qui è un mega archivio pieno di roba che sta marcendo guarda lì che schifo mamma mia questa è una cosa apocalittica ho lasciato tutto cioè questa è storia dell'editoria italiana è lasciata così allora dai faccio qualche foto anche di qua e poi proseguiamo il giro che si va avanti di là usciti dall'archivio si procede di qua sono altri uffici tutti smontati con anche i pavimenti distrutti per portare via tutti i cavi e allora si va avanti di qua uffici uffici con archivi uffici tutti sfasciati se non c'è dentro niente è proprio rottati qua si entra proprio rottamato tutto e basta qui non c'è mica troppo di interessante perché sai le parti interessanti erano di sotto con i macchinari qua scrivami scrivami queste erano tutti uffici queste erano tutte prove di stampa caffè per pubblicità qualcosa di arabo scritto in arabo e queste erano tutti i provini di stampa le prove colori si ma va che stampa uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tre quattordici quindici sei ciasette diciassette colori e sei scale di grigio diverse figa e di qua e di qua finisce c'è una porta però tutto sfasciato si si apre e c'è un altro ufficio altri uffici nausica new experience e che è questo qui porta cenere con sigarette usate da poco i resti di un subwoofer con un amplificatore stereo ma un forno a microonde benvenuti e di qua monitor di computer televisioni vecchie un proiettore c'è proprio roba vecchia e di qua l'ultimo ufficio con dentro niente un maglione e un faretto un faretto lasciato qui così ma con tutte le cassette delle lettere per per scrivere i cartelli sui vari uffici le varie denominazioni dei vari reparti e qua voltmetro amperometro c'entra lì l'antincendio vabbè qualche foto anche qua dentro e via eccoci in uno degli uffici dove siamo stati prima anzi dove non siamo passati prima e qui ecco ci sono gli esempi cado che qui bisogna stare in equilibrio su pezzi di pavimento che non ci sono più questo qui erano le lastre si si proprio loro le lastre di stampa quelle che avevo spiegato prima dove c'è la parte che prende il colore e il bianco invece non lo prende quindi poi quando c'è il rullo la parte colorata lascia il colore sulla carta wow questo invece ci siamo stati prima vabbè allora continuiamo da un'altra parte il giro questo qui era l'edificione grosso dove eravamo dentro e di qua c'è il locale caldaie di là si scende anche cisternone gigante tutte sti manopoloni recuperi di cosa servizi generali acqua demineralizzata altra acqua demineralizzata qui c'è una scala che scende ma prima vediamo di qua perché è sicuro che si scende però prima vediamo qua qua c'era l'ufficetto del caporeparto o di chi del responsabile di qua delle caldaie ma questa così gigante e queste cavolo giganti e si gira attorno e niente qui c'è solo un'altra come quell'altra gigante allora facciamo ritorniamo il giro attorno e scendiamo di sotto io voglio vedere di sotto voglio vedere di sotto si 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 altri computer di controllo questi con su il vetro rosso beh giusto per rendere più comodo la visuale e di qui c'è la scala a chiocciola che scende di sotto beh questa in ferro così è roba molto d'epoca no perché è stata costruita nel 1957 la fabbrica scala verticalissima e di qui sotterranei io devo illuminare perché è proprio buio 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 sotterranei pieni di muffa non so odore strano non so sarà che ci sono immerso dentro molto muffa sì quello sì e di qui si va avanti questi sono tutti corridoi che portano le tubazioni dalle caldaieri verso tutto il resto della fabbrica oh e qui cosa c'è e qui era un altro altri pannelli di controllo altra centrale elitrica emergenza però qui c'è anche ci sono le tubazioni per il riciclo dell'aria quindi io torno avanti cioè torno di qua e vado avanti vediamo dove portano sicuramente questi sotterranei portano agli altri capannoni capannoni l'edificio dove siamo stati prima ma che corridoi lunghissimi e non se ne vede la fine qui roba con reti e plastiche che coprono ma qui altri corridoi lunghissimi è gigante qua sotto e questi magari hanno tutti i depositi i magazzini vedo tanti pannelli elettrici ma non riuscendo ad entrare oh qui ci sono dati da fare con il rame a portarlo via qui si sarebbe potuto entrare ma non ho voglia di scavalcare la montagna di rame pannelli di vetro resina oh e qui sembra finire e qui il corridoio finisce con un'altra cisterna con due megapompe e finisce qua vabbè faccio qualche foto e torno indietro manca un pochino l'aria qua sotto qualche foto e torno indietro oh yeah uscendo dal reparto caldaie c'è quest'altra discesona che avevamo visto prima di cui si sale per controllare altre cisterne così e di qua ha capito sono qui siamo nella parte dove i sotterranei ci girano attorno quelli che ho appena visitato dove ci sono tutte ste robe plasticate e questi qui erano tutti magazzini con materiali per manutenzione si siano i magazzini con i materiali per la manutenzione adesso se capito hai capito allora i sotterranei fanno il giro così però girano attorno di là si fanno tutto il giro attorno e infatti da fuori si vede però vedi come ricca c'è la plastica dall'altra parte è tutto così vabbè niente qui sotto non è che ci sia troppa roba tutta tutta roba per manutenzione basta coperchi per interruttori prese un po' di tutto si si un po' di tutto e vabbè allora possiamo anche cosa cos'è no una premessa la so si ma ho preso industriale tutte scassate no magari no però roba vecchia che magari non rispetta neanche più gli standard vabbè allora usciamo da qua ci siamo addentrati un po' nei sotterranei e qui abbiamo trovato addirittura tavolini sedie bicchieri sono messi un telefono così giusto per far scena però sedie poltrone cose varie qui probabilmente vengono di notte allora sì sì no questa è cartina per farsi cannoni sì sì cartini qui si fanno i cannonazzi sì sì qui vengono di sotto si sente odore di erba qui vengono di sotto a fumarsi gli storgioni a bere birre certo che in mezzo a sto pattume sono le macchiette di caffè lì ancora anche sì ma in disuso ci sono eh sì ma sì ma sì ma poi adesso sono tutto sfasciato è vero magari qui era il centro ristoro una macchina delle merendine quella del coca colore e quella del caffè ma io volevo far vedere che in questo posto questi vengono qui a fumare bere ma ecco ci sono cose come per esempio queste muffe che ci sono anche di sopra ma ci sono anche qua e non so quanto faccia bene fumare ci sono dei peli lunghi 10 centimetri non so quanto faccia bene fumare e stare qui sotto a respirare sta merda no no via via sembra la foresta da savanna guarda sì sì è altissimo se guardi lì qua c'ha un colore con il quale guarda sì sì no è pelosa con i peli lunghissimi sottilissimi andiamo via che qui ci stiamo respirando schifezza via fuori siamo saliti da un'altra parte ci sono altri uffici certo questo posto è proprio immenso un labirinto tutto devastato rotocalcografia italiana spa oh questa era sala delle riunioni e di qua si scende e in questo ufficio c'è questa c'era wow la macchina da composizione la linotype wow vederne una dal vivo così questo è cimiglio storico cazzo lasciarlo qui così le mettere già fuse si 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 questa funzionava che invece di avere i caratteri mobili stampava su piombo le lettere le strisce di parole proprio riga per riga qui c'era una macchina faceva scendere le letterine si 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 adesso mancherà no ma forse ci sono guarda perché sono dentro qui e non si vedono si no queste sono non sono lettere queste sono le strisce queste sono tutte strisce di metallo dove poi veniva stampato stampato venivano proprio presso fuse con la lettera con tutte le lettere per poi andare a stampare wow incredibile questa qua è proprio storia della stampa questo andrebbe in un museo in un museo altro che qui quasi a marcire con l'ufficio questa era la porta principale era proprio l'accesso clienti sulla strada con l'ufficio per accoglienza e via cosa fai? è caduto il pannello e allora dai faccio qualche foto qua che questa merita merita sì bene l'esplorazione è finita ci sarebbe ancora qualcosa da vedere ma il resto poi alla fine sono tutti uffici più o meno ben uguali quindi la finiamo qua perché è stata veramente lunga impegnativa e nell'attesa di una prossima esplorazione prima di tutto ringraziate ancora Davide che se no non avrei saputo di questo posto e poi voi continuate a seguirmi sul mio canale youtube to speed iscrivetevi attivate le notifiche così mi aiutate a far crescere il canale iscrivetevi anche ai miei gruppi su facebook urbex e mystery dove trovate tutte le coordinate di tutte le mie esplorazioni e escursione viaggio in kayak dove trovate tanti percorsi interessanti da fare in kayak date un'occhiata sempre su facebook alla mia pagina to speed artigianato dove trovate tutti i miei lavori artigianali in pietra legno e metallo e vi do appuntamento al prossimo video e anche Davide vi do appuntamento oh yeah grazie 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 a tutti.